L'assessore comunale all'ambiente Nicola Conficoni e l'amministratore di GEA hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo all'Istituto Tecnico Superiore Kennedy, dove hanno incontrato la vicepreside della scuola per concordare una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli studenti. Nella giornata di ieri l'assessore Conficoni ha distribuito un volantino invitandoli ad usare gli appositi cassonetti. La città è la casa di tutta la comunità e dobbiamo prendercene cura ed è per veicolare questo messaggio che siamo qui al Kennedy, dove sia la dirigenza scolastica che numerosi cittadini ci hanno segnalato il perdurare di una situazione di degrado. Una situazione dovuta alla cattiva abitudine degli studenti di lasciare i residui dei pasti consumati all'esterno dell'Istituto Scolastico nei giorni del rientro pomeridiano, lungo via interno o nel vicino parco di San Valentino. Per superare questa criticità GEA nei giorni scorsi ha collocato all'interno del cortile scolastico degli appositi contenitori per la raccolta differenziata, uno dei quali è appositamente dedicato ai cartoni della pizza da sporto e oggi siamo qui a volantinare per invitare gli studenti ad utilizzarli. GEA ogni giorno pulisce la città, ma il modo migliore per tenerla in ordine e anche per risparmiare è senza dubbio quello di non sporcare. Quest'iniziativa testimonia la volontà dell'amministrazione comunale di preservare il decoro urbano non solo attraverso i controlli e le sanzioni elevate dagli ispettori ambientali, oltre 1.200 in due anni di attività, ma anche attraverso l'educazione civica. Grazie a tutti.